Sì, dal mondo di Brooklyn è arrivato Brooklyn Storming, il primo chewing gum con i cristalli di Guston. Questo è il miglior gruppo di educatori che esista al mondo. Gli studenti devono consegnare tutte le armi prima di entrare nel recinto della scuola. Si prepara ad agire. Doveva essere una scuola modello. E basta? Noi diventeremo un esempio da seguire per tutte le scuole se vorranno risolvere i loro problemi. Christie, forse tuo padre sa la verità. Era diventato un inferno. Quei bravi ragazzi hanno ancora molto da imparare. Classe 1999, lunedì alle 20.30, su Italia 1. Golden Lady When you come out of the blue Golden Lady You make me feel so good You are the one You make me feel myself Golden Lady Golden Lady Grande amica. Non è solo dall'esterno che si combattono le rughe, ma negli strati profondi, dove i radicali liberi colpiscono le cellule di sostegno della pelle. Da qui, le rughe. Ma oggi, dai laboratori Giuliani, ecco un aiuto contro le rughe che si prende per bocca. Si chiama Oroderm, combatte dall'interno i radicali liberi e apporta l'isina il mattone di sostegno della pelle. Oroderm, l'antirughe che agisce dall'interno. Ah, e dov'è che vanno queste belle melanzane? La Giovanni Rana. Ma chi? Quello di tortellini? Ma sì, lui. Ma cosa c'entra le melanzane con i tortellini? Dai, vieni qua, fai vedere la bolla. Eccolo, Giovanni Rana, proprio quello dei tortellini. Ma li avete mai assaggiati i suoi tortelli alle melanzane? Tortelli alle melanzane. Sono quelli di Giovanni Rana. Ciao, Chiara. Ciao. Ti piace la ginnastica? Eh sì, è la mia passione. Senti, ma tu sei golosa. Beh, sì, sì, non di tutto però. Cioè? Per esempio, vado matta per duplo. È buono. Non mi appesantisce. E io mi sento leggera e in forma. Duplo nocciolato leggero. Ma tu, ti senti in forma? Ci sono persone il cui senso di responsabilità si riflette in ogni scelta. classe S, Mercedes-Benz. Ma io sono uno dei padroni dell'universo. Io merito di più. Eh sì, Sherman McCoy, rampante eroe del nostro tempo, aveva proprio tutto. Ricchezza e potere. Una moglie. Un amante. Non mi sento. Non mi sento. Un cane. E tutto ciò che un uomo poteva desiderare. Sherman McCoy! Ma una sera, lui che aveva in mano l'universo, bruciò tutto in un grande falò. Lei apra bocca e la resteranno. Come si dice, dalle stelle alle stalle. E il povero Sherman cominciò a puzzare come un falò dell'inferno. Eh sì. Fa proprio schifo. Tom Hanks, Melanie Griffith, Bruce Willis, con la regia di Brian De Palma, il falò delle vanità. Stasera, alle 20 e 30, su Rete4. Passami il perro.